da cosa nasce l'idea di questo corso il circle time nella classe cooperativa nasce fondamentalmente da un'idea di fondo dalla considerazione che vedere i nostri studenti come persone e non solo come alunni ci permette di conoscerli a tutto tondo a 360 gradi perciò di dare senso e quindi dare motivazione all'esperienza scolastica talvolta nonostante queste buone intenzioni non riusciamo soprattutto con gli adolescenti e preadolescenti a superare il muro del silenzio o a volte nei confronti dei più piccoli dobbiamo affrontare risate e banalità che sono espressione dei loro meccanismi di difesa come superare quindi i meccanismi di difesa il circle time nella classe cooperativa è un po la risposta a questo interrogativo cosa affronteremo nel corso la teoria del circle time e cercheremo di avere alcune note tecniche qual è il ruolo dell'insegnante quali sono i tempi quali sono i tempi di vita di un gruppo nella classe così via faremo esperienza sia di riconoscimento che di produzione degli strumenti principe del del circle time la parafrasi e la verbalizzazione ma faremo questo sperimentando quelle tecniche cooperative che diventano uno scivolo attivo per fare che la vita della classe diventi reale relazione